e ma soprattutto andate su facebook e caricatevi su facebook su by night roma pagina che ti piaccia, dalle cose più belle e se uno di voi accende il cellulare o un accendino va bene? ma è un cellulare che l'accendino fa perché è un suono ma non c'è più di un effetto allora momento romantico con questo sabato notte dedicato a manifesteggiare piccola stella senza cielo di Liga Blue in lezione veramente romantica sono proprio cantante su una Liga ora vediamo se sarà faccendo l'aria accesi va bene non so ci pare non so non so che sta già se a giù le uova non so non so non so non so non so non so mi sembra tutti insieme vai che non c'erai che non c'erai senza cielo che non c'erai che non è adesso che non c'erai e non c'erai e non c'erai e non c'erai un suo glanzo un piscale e non c'erai e non c'erai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti